Salve a tutti ragazzi, allora, devo dirvi la verità, io non lo capisco la mia squadra, cioè come, con l'Udinese, non dico assente, abbiamo comunque giocato da Milan, abbiamo provato a combattere, a vincere e tutto, in trasferta invece diventiamo dei leoni, quindi Verona e Milanetto, ma questi ce ne fanno quattro, perché il Verona è forte, veloce, rapido, arrivo al Milan, si mette in posizione di non farli giocare, li blocca, combatte veloce, Diogo Dalò che fa quel gol con quella giocata, Raid Krunic, quella punizione nell'angolo, bellissimo, ma che gli prendi alla mia squadra, cioè in trasferta diventano quasi come il vecchio Milan, Ronaldo, quello intendo dei vincente, e invece in casa purtroppo hanno molte difficoltà, ma che gli prende? Andiamo comunque alle pagelle, ragazzi, la Verona Milan, Milan batte Verona 2 a 0, allora, andiamo a vedere le pagelle, Donnarumma 6 e mezzo, più che altro per gli interventi nel secondo tempo, bravo Gigio, ti sei comportato molto molto bene, anche tu, devi solo aggiustare leggermente, trovo giusto leggermente, devi aggiustare leggermente, diciamo, il piede per evitare proprio fastidio ai flessori, queste cose qua, che tu ci servi, per favore, da Talusano tanto bravo, ma tu ci servi, Gigio. Dalot, ah, per un attimo, Donnarumma, grazie per aver detto a Raid che vuoi restare al Milan, anche te, Cianna Noglu, che sei infortunato per ora, che vuoi rinnovare, grazie ragazzi, almeno siete intervenuti voi. Dalot, 6 e mezzo, dopo tante volte che ti ho messo solo 6 o 5 perché avevi giocato un po' così, hai ancora molte difficoltà, allora perché 6 e mezzo? Per il gol e per la determinazione che ci hai messo, veramente, cioè, forse non so se ti abbiamo sottovalutato o che altro, però complimenti a Diogo per questo gol, ti spediremo a Manchester perché non hai un convinto bene, però vediamo, insomma. Romagnoli, 6, per una volta, caro Ale, Contamori hai fatto molta coppia, cioè hai fatto molto bene, scusa, in coppia con Romagnoli, da Contamori. Meglio che la fai più spesso, Pioli, sta cosa, se Kier non è disponibile, potrebbe, ora lo è, però se non lo fosse, potresti imparare qualcosa, caro Ale. E se non rinnovi fanculo, abbiamo Kier, Tomori, Gabbia, ce ne pigliamo un altro, Kabbak, che ne sacce. Tomori, 7. Tomori, sei mostruoso, rinnovategli il contratto ora, 30 euro, spendete le nevale tutti, Tomori, riscattato, porca puttana. Calabria, 6 più, grande Daviduccio, non eccezionale, ma grande anche tu. Chessy 8, il migliore della partita, Frank Yannick, chessy, per come, come hai detto tu, io corro così tanto perché la gente nel mio paese, per prendersi un tozzo di pane, fanno i miei stessi chilometri, ma ho cuore d'oro, Frank Chessy, cuore d'oro. E il novo vuoi farlo anche, Frank Chessy, veramente, cuore d'oro, incredibile, Frank. Neiti di vincere qualcosa, caro Frank. Adesso vogliamoci in Champions e poi veniamo l'anno prossimo, bravo Frank. Frank, allora, dicevamo, 8 più, complimenti Frank e sì, bravo. Meite, sei più, complimenti anche a te, comunque. Hai fatto bene, non hai fatto rimpiangere tonali, che ha potuto riposarsi. Allora, Castiglieco, sei anche a te, bravo Samu, sei più magari, ecco sei più, bravo Samu. E' entrato al posto suo, Augheb, senza voto, caro Jens Peter, non possiamo farci niente, cioè, non lo so, tu sembra che ci sei e non ci sei, cioè, vuoi dare ma hai paura, ma combatti, chi se ne frega. Combatti, amico mio. Non ti ho messo un modo basso perché si vedeva che volevi entrare e far bene, però ho sentato solo all'ottantesimo. Selemakers, sei anche tu, bravo Alexis, bravo anche tu. Krunic, 7, per il primo gol, ma no, che spettacolo, ma sei stato bravissimo, cioè, come te la sei inventata? Bravo, come trequartista. Sei in centro-vesta centrale, ma bravo come trequartista. Allora, ecco lo sbadiglio, proprio a proposito capita lo sbadiglio, capita per il caro Raphael Leao. Ecco qui, complimenti Raphael, veramente complimenti, ironico. 5, il peggiore della squadra. Caro Raphael, ma che ti succede? Cioè, sembra che, non lo so, sembra che tu abbia problemi quando non giochi bene, solo quando ci stanno Rebic o Ibra a tuo fianco. Cioè, hai fatto così bene quando Ibra era assente, il gol più veloce della Serie A. Cioè, ma che ti prende veramente, Raphael? Andiamo avanti. Ah, ok, l'ho già detto senza voto. Pioli 7, stavolta il voto te lo metto, caro padre. Veramente bravo, Pioli. 7, non tanto per la vittoria, ma come hai gestito la partita? Come hai gestito lo spogliatoio in questo momento? Bella quella frase, tra l'altro, se fossi più giovane di 30 anni, verrei anche io a giocare con voi. E li hai stimolati molto. Bravo padre, veramente un bel incoraggiamento. E adesso, l'ultima cosa per tutti gli interisti che blaterano, siamo primi meditatamente qua e là, eccetera. Io l'ho detto, il meito ci sta dell'Inter, ma parlamoci chiaro. Se il Milan non si afflosciava così, ditemi sinceramente se foste rimasti voi al primo posto o se mi sarebbe rimasto il Milan. Ditemi la verità, se il Milan avesse continuato così. Diciamoci la verità. Anche meito è nostro se voi siete primi. Però, pensiamo alla Champions League, che è molto meglio, sinceramente. E poi l'anno prossimo penseremo anche ai titoli. Bene.